Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita Oggi siamo su Zeek Survivor, cioè Zombies in the City È un gioco che mi ha stupito ed è un gioco che non mi aspettavo, l'ho scoperto per caso Ed è un survival con questo stile grafico che a me piace molto, ma è una cosa soggettiva Ci sono due tipi di inizio, si può cominciare nella standard mod, cioè più focalizzato sulla questline E la survival mod, che è molto più focalizzato sulla componente survival Dove si comincia con un boost dell'esperienza per poter sbloccare sin da subito tutte le ricette base di crafting Ma il danno che ci arriva è raddoppiato Noi lo iniziamo normale, in modalità standard Perché questo ci fa vivere, diciamo, quello che è il tutorial iniziale Dove ci troviamo su questo aereo e non capiamo cosa sta succedendo Prendiamo la mazza da baseball E dobbiamo capire come colpire Vedete che così possiamo colpire, ma in questo caso dobbiamo colpire più forte Quindi tenendo premuto, vedete che c'è la freccia che diventa sempre più grande Puntiamo dove vogliamo colpire e vuotiamo E facciamo il mega colpo un po' alla Zelda Ora dobbiamo difenderci Dove sono tutti? Sono tutti i cui... C'è anche la polizia Vediamo se riusciamo a... Un difetto che ho constatato È il fatto che le hit, i colpi, diciamo che diamo ai nemici Non hanno una ripercussione fisica sul nemico Infatti vedete semplicemente i punti ferita che abbiamo tolto loro Ma nient'altro Quindi in questo caso abbiamo avuto successo L'aereo sta precipitando Aveva a bordo questi zombie E a questo punto noi, vabbè, precipitiamo E inizia il gioco vero e proprio Dove andremo a sperimentare i primi minuti Con le prime ricette di crafting E il primo raccolto Insomma il gioco in inglese come avete notato E parliamo che sono sopravvissuto Qualcuno? Aiuto! Chi è qui? Cos'è successo? Sono uno scienziato e ho bisogno di un aiuto Tossisce con sangue Dovrebbe esserci un medipack da qualche parte Ok, lo cerco E intanto vedete che possiamo andare a lutare le varie cose che troviamo in giro Poi andremo a vedere bene tutti i menu C'è una valigia anche qua Ok, che contiene l'equipaggiamento base Guarda a caso Abbiamo quello di cui abbiamo bisogno Ora, abbiamo trovato il medpack? Sì Glielo diamo, guadagniamo esperienza E ora possiamo nuovamente parlargli Allora, cosa è successo? Perché c'è questo casino? La nostra squadra era mandata per... Allora Allora, la nostra squadra era stata mandata per prendere qualcosa dal vicino hangar Perché i nostri scienziati si sentivano deboli dopo aver dormito sul pavimento freddo Allora, c'è stata un'esplosione e qualcuno ci ha attaccato Attaccato, dici? Ok E mi chiedo se tu accidentalmente hai visto chi ci ha attaccato Ricordo... Quello che ricordo è molto scarso Eh... Oh yes Erano alcuni tipi di... Airstrike Forse terroristi Ah, ok My spine fells broken Quindi making some... Ok, facciamo un campfire Per fare un campfire Vedete che possiamo andare col tasto I ad aprire questo menu Ci apre il crafting Ci apre il builder E il builder Possiamo andare a piazzare dove vogliamo il fuoco Ma per fare il fuoco ci vuole il legno E per fare il legno ci vuole l'albero Quindi prendiamo questo Doppio clic Lo portiamo sotto Lo andiamo a selezionare Ed abbattiamo i primi alberi Allora, iniziamo a colpire Penso che... Ok Dovrebbe cadere il legno che raccogliamo col tasto E Andiamo a prenderci anche questo Poi c'è anche la mappa Vedete che possiamo vedere la mappa C'è una barca qua in alto E il gioco è veramente stata una sorpresa per me Perché non me l'aspettavo E... Speriamo che... Si riveli a essere... Poi nel momento in cui lo sto provando Mancano due giorni all'uscita Quindi non so dirvi il prezzo Come al solito Allora Abbiamo sette di legno Facciamo il fuoco Che piazziamo qui Direi Dai, sì L'abbiamo piazzato Quattro mila punti di esperienza Abbiamo preso I saliti di livello Siamo saliti di livello Abbiamo guadagnato quattro ricette Allora Lo scienziato si gira Io ricordo che hai detto qualcosa A proposito di un gruppo di scienziati Dove li posso trovare? Sono in un bunker Non posso aiutarti a raggiungermi Ma ti posso dare le coordinate Di dove sono Perfetto Qui c'è il mio revolver Allora andiamo a equipare Anche il revolver Che non credo abbia colpi Ma vada in base all'usura Quindi io premo Qui E vediamo che il bunker Mi pare Che parta Sempre in posti diversi L'ho iniziato Due volte Questo gioco Ed è iniziato In entrambi Modi diversi Col tasto Vediamo un attimo Anche l'elenco dei tasti Al momento godibile Sono in russo in inglese Vast C è creep E interact Q chiami il pet Infatti fa un fischio Lai è l'inventario Corre Attacca Quick slot Niente Quello che abbiamo visto fino adesso Vedete che il pet Lo chiamiamo fischiando Un po' La Red Dead Redemption O simili Andiamo al bunker E vediamo che cosa succede Intanto in alto a destra Vedete L'ora In alto Al centro Vedete La vita La fame La sete E in alto A sinistra Invece la mappa E tutti i vari Menù Oh che cacchio è quello Eh sì Vabbè Olè E possiamo raccogliere Carne di zombie Ok Questo è il Vabbè Io adesso prendo Un'arma un po' più Da corpo a corpo Perché Non voglio buttare La durabilità Della pistola Posso parlare Posso entrare Ok Mi fanno entrare Cinque nuove ricette Imparate Scendiamo di sotto Nel bunker Andiamo a vedere Che cosa sta succedendo Questo mi ricorda Un pochino Dying Light Con questa Il tizio qui Che vende Possiamo commerciare Acqua vuole Piclock Allora ci da un Piclock Quindi un grimaldello Per dieci zombie meat Una bottiglia Per dieci di legno Cibo in scatola Per 20 di carbone E La ricetta Per fare il piclock Per 20 pesci Niente Ho cambiato idea E niente Andiamo qua A parlare Col tizio qui E vediamo Che cosa ci dice Ciao Qui Quindi tu sei Uno di quelli Che io sto cercando Senti il rumore Diciamo Dallo speaker Ciao Io In questo momento Ci mancano dati Per la nostra ricerca Potresti portarci Cinque parti di zombie Carne Insomma Ok lo farò Ok intanto Gli scienziati Hanno chiesto di portare Cinque pezzi Di carne di zombie Guarda intorno Ok la chance Di trovare Degli zombie È maggiore La notte Intanto io Che cacchio faccio qua Questo qua Non dovessi stare qui C'è un vero zombie Qua Anzi Ed è sotto controllo Ok Ah io continuo a esplorare Perché non so Se mi hanno detto Di cercare Fuori o dentro Cos'è questo posto Oh qui Facciamo risorgere I nostri Amici morti Significa che Vi trasformate in zombie Non esattamente Tu sai la tecnologia È stata ricercata Dimmi di più So Allora Tu devi solo sapere Che il 90% Sal È sicura E il 10% Delle persone Si trasformano In zombie Il 10% Sì Ah questi qua Stanno facendo qualcosa Cioè praticamente hanno scatenato L'epidemia Bah potrebbe anche essere Comunque va bene Usciamo e cerchiamo Questa carne di zombie Vediamo che ne abbiamo Al momento Una Io non ho intenzione Di girare di notte Comunque Quindi Ah è iniziato anche a piovere Molto bene Cerchiamo Vediamo se ci sono Degli zombies Allora Cerchiamo zombie Vediamo se con il revolver Riusciamo a Ok Mira Zitto Zitto Spara Però Come in tutti I film zombie Diciamo che Voglio vedere se si può Scalare pietra Sì Io prendo pietra Perché non si sa mai Che magari Intanto sta Cedendo proprio La durabilità Della pietra Niente Non cede Questa roccia Non Non sembra cedere Gli do ancora due picconate E basta Basta Sì abbiamo anche una torcia Perché poi quando fa la notte Dovremmo Orientarci Allora intanto abbiamo il bunker lì Cerchiamo altri zombie Da poter Da poter Uccidere Come ripeto Non ho intenzione Di andare Di notte Questo carbone Invece Collenstone Ma non credo me l'abbia raccolto No infatti Ne mi servirebbe un piccone Vediamo un attimo se possiamo Craftare un piccone Eh sì E ci servono Due di legno E tre di pietra Ok facciamolo Allora dai Abbattiamo Un albero E facciamo un piccone Così prendiamo anche Qualche Mezzo Qualche Qualche roccia Insomma No Non voglio fare il crafting Di quel tipo Voglio fare Un crafting Di questo tipo Craftiamo L'affare qui Quindi lo equipaggiamo E possiamo andare Finalmente a scavare Allora Prendiamo anche il carbone Non mi ricordo Se mi hanno chiesto Il carbone Per Però Intanto Scaviamo Ma questo è un Poliziotto No è un Vigile del fuoco Mi piace Mi piace Mi piace Ah guardalo qua Carbone 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 Charcoal Questo cos'è? No io volevo fare carbone Però Questo Sta diventando notte Ah si va in pratica Su fasce orarie Stone 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 Vediamo un po' Quanto ne abbiamo Cinque Di carbone Non mi ricordo più Quanto dovevamo recuperare Abbiamo lo shop Ah ok Qua ci sono i diamanti Fuel boost Possiamo anche potenziarci Zombie Dovremo recuperarne Cinque E ne abbiamo solo tre Quindi dobbiamo Troccare altri zombie E star pronti per Fuggire Nel caso in cui Si dovesse mettere male Vorrei prendere Quel picklock Che abbiamo visto Prima Ma Non ho idea Di dove Ricorda un pochino anche Untarned Il gioco Così E' impressione mia Teniamoci la pistola buona Anche se si sa Come ho già detto Che il rumore Atterra i zombie Eccolo qua Questo qua è uscito Direttamente dal bunker Però Zombie Mite E' un cloth Eccole lì Un altro E' un altro Ancora No Finiti i colpi Allora E' una balla Che Scusate Ma Io Me ne Andrei Nel bunker Signori Scusate Dove E' qui Scusate Ma Io me ne Andrei Ok Ma è finita Ah si Si è rotta Non è che scarica E' rotta Allora Vediamo un po' Abbiamo preso la carne di zombie Vediamo adesso No Non voglio spararti Voglio parlarti Ecco qui la tua carne Un premio Non è abbastanza Per fare La tua parte Nel salvare l'umanità Ah ok Questo è il tuo Ok Mi ha dato Del pronto soccorso Ok Allora Sto continuando a provare Sparargli So Siamo qui Faccia a faccia Ti è stato dato il grande numero di entrare nel nostro bunker E abbiamo una nuova missione per te Che missione Tu rossa Un zombie Sarcasmo Di cucinare la carne zombie Che sarcasmo No È un importante lavoro Abbiamo raccolto dati Su un aereo precipitato qua vicino E uno dei famosi biologi Era là Abbiamo bisogno dei suoi documenti Probabilmente la sua ricerca Che potrebbe aiutarci Va bene Non dei fogli I documenti I documenti molto importanti Puoi aiutarci? Ok Vi troverò quei documenti Ok E sono marcati sulla mappa E sono d'accordo E va bene Però io Vorrei Possiamo commerciare 20 col Eh no Non ho niente 20 pesci Niente Vediamo se Gli chiedo se ha una missione Ha una missione per me Devi chiedere a Angelica Che è quello lì Credo Eh sì No Non l'abbiamo ancora trovati Niente Andiamo Andiamo Vediamo se possiamo farci un'arma Magari abbiamo sbloccato qualche sip No Non possiamo fare neanche altri mezzi Eh Learn Ok Possiamo andare ad apprendere nuove abilità Eh Nuove cose a costruire E vediamo se si può fare Eh Questa ci chiede stone Roop La torcia Possiamo fare una cardboard box Per salvare gli item Vabbè ma quanta roba c'è Cavoli Il cerotto I vendaggi Insomma Un cappello con la candela Water collector Per raccogliere l'acqua Mamma mia Bello Non c'è tantissima roba qua Però direi veramente Un martello Per rompere gli edifici Il clot Ma che bello Makeshift pistol Iron No Mi servirebbe qualcosa di più figo La corda magari Non lo so Questo Crafting table Ok Abbiamo sbloccato il crafting table Che spero poi ci vada ad apparire un po' di possibilità Oddio quello Scusate Per toni Zitto zitto Lo colpisco E via No Ok esce anche la vita Quindi Eh ci ha fatto male adesso Ok L'abbiamo ucciso Abbiamo preso Allora dove sono I paper Eccolo lì C'è un altro aereo caduto Là in alto Ok Ma se io volessi fare questo maledetto crafting Lo posso piazzare Mi servono stone 10 e wood 10 Quindi dovrei tagliare l'albero Tagliare i alberi E qua vicino Però Vabbè aspettiamo un attimo Intanto andiamo a vedere cosa c'è qua Ho una scala E qua Un lockpick Che sia il lockpick questo Sì Per lockpicking Ovviamente Va bene Ok Quindi possiamo scassinare Con quello Ne abbiamo trovato Quindi non abbiamo più bisogno di Dimenticare Il Il carbone C'è una valigia In cui troviamo Che non so cosa sia Dell'acqua Forse Vabbè Poi andremo anche a bere Però Dobbiamo Abbiamo l'esigenza di trovare Sti documenti Uh Move lockpick left Ok dobbiamo scassinare Cosa dobbiamo fare Stop the bar on the line No Ah ok Ok Dobbiamo fermarlo in tempo Interessante Aperto Dentro cosa c'è Documenti Ok abbiamo trovato I documenti importanti Perfetto Lo era tutto guidato Per farci fare questa cosa Ho anche da mangiare Molto bene Cosa che c'è adesso Abbiamo trovato Quello che dovevamo trovare Qua è un altro Aereo precipitato Niente Torniamocene indietro A sto punto Magari io vorrei Se ne ho la possibilità Abbattere qualche alberello Ancora Buongiorno Scusi Eh le abbatto la betulla Eh la musica Mi fa capire Che probabilmente Dovremmo combattere Rad wolf Dovrebbe essere Un Un lupo Radioattivo Ok Qua ci fa fuori Se non ci diamo Una mossa Eh no Adesso lo devo uccidere Poi mi curo Perché Ok Abbiamo abbattuto Anche un diamante aveva Vabbè Comunque L'accetta se ne sta andando Quindi Ah che cacchio Allora 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 Vediamo un attimo Allora 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 No Vediamo se possiamo batterlo con questo Scusate ma stavo ragionando Al fatto che forse Build Non ce la facciamo ancora Perché abbiamo solo quattro Quindi se io volessi craftare un'altra Accetta Accetta Lo posso fare Lo posso fare Tac L'equipaggio E taglio alberi Ok Ce lo stiamo Proprio godendo Questo gioco Stiamo Ok Speriamo che dia più Più legna Questo qua Che cacchio E quell'albero verde Vabbè Allora Intanto sentite il mio Cliccare Forse è nato Vediamo adesso se possiamo fare E si lo possiamo fare Ok Però lo voglio fare Dove c'è il bunker In modo che Siamo tutti più tranquilli Siamo vicini a casa Insomma se si mette male Scappiamo dentro Intanto vedete che Allora Qua in questo bioma Roccioso Ok Piazziamo il tavolo Probabilmente col tavolo Potremmo fare degli edifici Che al momento Non abbiamo ancora ricercato Comunque vabbè Tavolo Da crafting Lo mettiamo qua Dai girato così Perfetto Craftato Vediamo cosa possiamo fare Con il tavolo Perché esce in russo Qua la frase Vabbè Possiamo craftare Le cose che non abbiamo Ancora ricercato Quindi Clothes No Mi puzza sta cosa Di diamantini Però i diamantini Salgono Quindi Boh Mi fa molto gioco Mobile Però Vabbè Torniamo dentro Consegniamo anche questa quest Vediamo cosa succede Ok I documenti sono questi Eccoli qua Riconoscimento Ok Ci ha dato Della bottiglia d'acqua Credo Oh abbiamo anche sete Tantissima sete Consuma Una E c'è rimasta la bottiglia vuota Figata Consuma anche la seconda Perfetto Ho una nuova missione Lo sapevo Ho fatto alcuni calcoli E presto Alcuni Zombie odds Arrivano Anche Orde Forse Ho dimenticato Un'era Non lo so Abbiamo bisogno Di Prendere i nostri vecchi impiegati Jack Norton Che è molto bravo A fare costruzioni Dove troverò Jack Qui sono le coordinate Ok Perché poi inizieremo a fare Anche gli edifici Figata Allora andiamo a prendere Sto Jack Dai Io direi che Ci prendiamo anche Un medikit Intanto scusate Ma mi sposto Mi metto in posizione Un pochino più da battaglia Perché adesso bisogna andare A recuperare Il signor Jack Che è là in fondo Alla mappa Credo Sì E andiamo A proviamo Adesso Il gioco mi piace molto Devo dire Che è difficile Che un gioco mi ispiri Così Soprattutto ultimamente Però lo stile grafico Non mi dispiace Anche se so che Alcuni voi Magari potranno Storciare il naso Per Quello che è È la pixel grafica Insomma Quella Quella cosa Alla keyboard Ma Ma scusami Dove cavolo è? Ma dov'è? Scusate Ma Io non voglio Perdermi adesso Però Ah Jack È là Ok Ok In culandia Proprio Lontanissimo Perché non mi fa muovere? No Mi sono Buggato Sembrerebbe di sì Save Save Eh sì Mi si è buggato Mi si è buggato il gioco Torniamo al menu E vediamo Che cavolo è successo Allora Rientriamo Allora Allora Ecco qua Vediamo se effettivamente Questo bug È risolvibile Molto semplicemente Ok No Va bene Sì Siamo Siamo a posto È sistemato Può capitare Insomma Capita nei tre Non vedo Non vedo perché Non deve capitare Anche qui Comunque Il tizio Dovrebbe essere Lontano Sento la musica Che non mi piace Infatti arrivano Gli zombie Gli zombie Sono anche abbastanza Cogliacei Perché Poi ovviamente Se avete Mandato giù Il sistema di combattimento Di project Zomboid Sicuramente Mandate giù Anche questo Allora Scusate Ma Io l'ho mandato In crisi di gioco Perché gli ho chiesto La quest Show on map E Jack È di là Oltre il plane Ok Andiamo E vedete che mi si Si bugga Mi si bugga La cosa Perché Vabbè Non lo farò più Non cliccherò più Su quel tasto Poi lo segnalerò Comunque niente Di Di bloccante Insomma Ce lo cerchiamo Per i fatti nostri Anche se girerà di notte Non è che mi piaccia molto Però Vabbè Perché c'è anche una barca Beh comunque Poi si inizieranno Costruire anche degli edifici Penso delle protezioni Insomma Quindi il gioco Già il fatto che comunque Non è ancora uscito Mi ispira molto Come è fatto Se non l'ho già detto Anzi L'ho già detto Anche più volte Allora Avrei anche fame Ma Che cacchio è questo Ah Ok Quello dove eravamo Prima Ok Abbiamo l'uso Il Allora Prendiamo l'arma Questo cos'è? Eh C'è dentro la roba da mangiare Sì dentro dei lupi Andiamo su Su di qua Doveva essere su di qua Il tizio Ci sono dei Dei campi La musica che ricomincia Vediamo se è solo uno Lo possiamo fare Boh Aiuto Speriamo che il tizio Sia armato Vabbè No Non è neanche lui Dov'è? Dove sei? Ti vede Ok Sono scappati Spero arrivi il giorno Adesso Perché Era su Nell'angolo Eccolo lì Il Jack Uh È diventato giorno Intanto Non me ne sono neanche accorto Fortunatamente poi Non Non infettano Quindi Adesso appena ci Ci calmiamo un attimo Buongiorno Salve Dimmi che mi dai Un revolver Almeno tu Jack Vieni Jack Prendo il fungo Si sa mai Eccoti di qua Jack Non sei tu Jack? No che non sei tu Jack è qua sul camper Buongiorno Eh Non si sale da qui Ok Scusate ma c'è una scatola C'è rotto Buongiorno Sali Dai Ciao Jack Come andiamo? Ehi sacco di carne Mi ha chiamato Ehi man E vedi Alcuni Ah no Un uomo un po' vecchio E un variaco Hai bisogno di aiuto? Attualmente si Eh Ho alcune importanti Missioni per te Ascolta Ho bisogno di una special booze Yeah The booze Booze è un liquore Credo Vabbè Insomma Questo è Il proseguo Della storia Con Un gioco Che sicuramente È Promettente E Credo Possa Divertire Per diverse ore Soprattutto La componente survival Andrà sicuramente Approfondito Però credo Di aver scovato Una perla Ho visto questo gioco Ciò che è legato Per caso Vederlo Perché In realtà Tante volte Si giudica dal titolo Dall'immagine Tante volte Usano delle immagini Bellissime Però è un giochino Stilizzato Questo aveva Una copertina onesta L'ho visto E sono contento Di avervi portato Una novità Per chi di voi Non lo conoscesse Ragazzi Con questo è tutto Da Zeek Zombies in the city Fatemi Survivor Fatemi sapere Che cosa ne pensate E alla prossima Ragazzi Ciao ciao Grazie a tutti